Siamo Maxi Colloni, vogliamo farti conoscere alcune delle nostre rotte nell'ambito del Geoparque Valle del Nord di Granato, con la vista più spettacolare del deserto di Fulffi, però non è questo il nostro protagonista, il nostro protagonista oggi è il Colocabal Foam, è un'istoria di 8 milioni di anni, escursione che Geoparque Hernada propone con il nome di escursione al Cerro di Malcosi, è un piccolo viaggio che oltre gli aspetti presaggistici informerà sulla storia di Costezi. Questa è una rambla, si chiama rambla di Nascimento. Amando i calanchi che vediamo nel deserto e in questa zona. Questa roccia è un'arenisca bioclastica e mantiene tuttavia, su un milione e mezzo di anni, l'elevazione della Cerro di Malcosi, una rappresentazione di arte neolitica e schematica. Siamo sul Havalcon e precisamente in uno dei punti dove si apre un pozzo. Siamo sulla cima del tuo balcone. Siamo sulla cima del tuo balcone. Iniziai dove il balcone si può definire come punto centrale. Unica, unico, unico, unico km come principalmente, uno dei miei vecini, una Porta, unico, unico, simile, unico, 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 in detenno dell'Also. Esattamente sopra la grande faglia di Baza, è una faglia larga a terra. I pomarini sono fossili lacustri, cioè del gran lago. Questa parata l'abbiamo fatta per segnalarvi un affioramento. Qui siamo nelle prossimità dei bagni di zucca. L'ultima tappa della nostra storia è una mija, una tetonica di faglia preesistente nel settore del Guadiana, unitamente materiali molto più erosionabili sia per l'idologia che per il mondo. Musica Un ed parents A pensare Video Grazie a tutti.